In studio, Catiuscia Carpentieri. Ha dichiarato che la legge sull'autonomia differenziata va approfondita senza pregiudizi. Intanto, Lars ha incardinato la manovra a ter e l'esame sarà portato in aula lunedì prossimo. Giuro di esercitare le mie funzioni di assessore regionale al fine di perseguire il bene inseparabile dello Stato e della Regione. Invito l'assessore ad alzarsi in piede rispondendo lo giuro. Lo giuro. Il neoassessore all'economia, Alessandro Dagnino, ha giurato davanti all'Assemblea regionale siciliana. Ha già iniziato a studiare i primi dossier, così come detto da lui stesso in aula, nel corso del suo primo discorso. Questa mattina ha detto che mi sono occupato del tema delle partecipate. Devo dire che dalle prime interlocuzioni con gli uffici mi pare che siano stati fatti passi avanti significativi. Lavorerò con la massima attenzione al rigore finanziario senza sacrificare risorse per lo sviluppo, ha detto ancora l'assessore. La delega alla programmazione non rientra tra i miei compiti, sarà gestita direttamente dal presidente della Regione, ha detto ancora il neoassessore, che ha ringraziato Schifani per la fiducia data. Dagnino ha parlato della legge sull'autonomia differenziata che va approfondita, ma senza avere pregiudizi e posizioni di retroguardia. Bisogna ancora capire come sarà applicata. Non sono mancate le critiche dei deputati dell'opposizione intervenuti in aula contro l'assenza di gran parte della maggioranza, parlando di sgarbo nei confronti del neoassessore. Il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, ha appuntato il suo intervento sulla delega alla programmazione che il presidente Schifani ha sottratto a Falcone. Oggi vogliamo sapere se potrà occuparsi della programmazione, pretendendo la delega tenuta stretta da Schifani. La programmazione è essenziale e cammina di pari passo con la gestione del bilancio. De Luca ha invitato Dagnino a non limitarsi al ruolo di assessore Monco e a prendersi carico della programmazione in modo completo. Lo pretenda subito dal presidente Schifani. Intanto l'Assemblea regionale siciliana ha incardinato la manovra a terra. Il termine per gli emendamenti è stato fissato a sabato alle 12. Lunedì prossimo comincerà l'esame del testo in aula con la discussione generale. Parliamo di siccità prosciugati. Il 20% degli invasi siciliani in un anno calano del 50% i volumi dell'acqua. Intanto arriva un emendamento presentato dal presidente Schifani che prevede un esonero del pagamento per il 2024 dei ruoli che derivano dall'irrigazione di soccorso. La geografia in Sicilia della siccità è molto critica. Dei 701 milioni di metri cubi di capienza autorizzata negli invasi siciliani dall'ultima rilevazione dello scorso 8 luglio effettuata dal Dipartimento regionale dell'autorità di Bacino risulta che attualmente ci sono 252 milioni di metri cubi di acqua che scendono a 115 sotto la voce volume utile netto per utilizzatori. Una situazione molto critica considerato che a luglio del 2023 il volume degli invasi era il doppio di metri cubi di acqua di adesso. A svuotarsi sono il 20% di laghi e bacini siciliani, 30 in tutto. In molti casi il contatore dei metri cubi utilizzabili è fermo a zero, sono sostanzialmente prosciugati, come per gli invasi di Disueri, Cimia, Ogliastrio, Piano del Leone e Zafferana. Da una statistica dell'AMBI, l'Associazione Nazionale Consorsi di Gestione e Tutela del Territorio Acqua e Rigue sulla Sicilia, a fine giugno le precipitazioni accumulate in 12 mesi sono state mediamente 414 millimetri, cioè un solo millimetro in più rispetto a quanto registrato durante la grande siccità del 2002. Su larga parte della Sicilia orientale il deficit pluviometrico supera il 60% su base annua. Gli invasi regionali trattengono circa 267 milioni di metri cubi d'acqua. Sull'isola, sei bacini su 29 non hanno più acqua utilizzabile. Altri sei hanno disponibile meno di un milione di metri cubi e quattro meno di due milioni. Tutti i comuni della provincia di Caltanissetta stanno subendo riduzioni nella distribuzione idrica, mentre ad Enna l'acqua potabile viene erogata un giorno sì e due no. Nell'Agrigentino per i terreni irrigui di Ribera si sta cercando di salvare gli agrumenti, operando trasferimenti di risorse irrigua dal sistema Prizzi-Gammauta all'invaso Castello. Nell'Aragusano si registra un repentino calo dei livelli piezometrici delle sorgenti, ormai quasi prosciugate. Il gestore sta attivando turnazioni per l'erogazione idrica. Il compresorio del Calatino è quello che sta subendo i disagi maggiori. L'acqua è razionata anche a Palermo. Le piogge dei giorni scorsi hanno solo lambito l'estremo lembo nord-orientale dell'isola, con accumulate fino a 28 mm nel Messinese, lasciando però a secco il resto dei territori siciliani. Intanto un emendamento alla manovra finanziaria all'ARS presentato dal presidente Scrifani prevede un esore nel pagamento per il 2024, dei ruoli che derivano dall'irrigazione di soccorso per gli agricoltori siciliani che ricadono nei comprensori dei consorsi di bonifica. Per questa agevolazione la norma prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro da ripartire tra i consorsi per ridurre l'onere a carico degli agricoltori fortemente penalizzati dall'emergenza idrica. Il Comune di Cattanissetta ha la ricerca sul territorio del capoluogo di sorgive e pozzi privati come fonti di approvvigionamento idrico per la popolazione. Ad annunciarlo è il sindaco Walter Tesauro, che ha espresso vicinanza alla cittadinanza. Da sindaco vi garantisco che da giorni mi adopero per cercare soluzioni e strade percorribili. Invita tutti i cittadini dunque che posseggono pozzi a dare la loro disponibilità nel mettere a disposizione di Caltacqua la loro fonte di approvvigionamento per garantire insieme ad altre iniziative una soluzione minima alla distribuzione dell'acqua in città. Intanto nelle prossime ore verranno date maggiori informazioni su questa iniziativa che è stata condivisa con la prefettura di Cattanissetta. E continuiamo a parlare di siccità. Oggi il ministro per la protezione civile Nello Musumeci ha risposto ai giornalisti appunto parlando della siccità in Sicilia. Ha parlato anche di siccità il ministro per la protezione civile Nello Musumeci nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo capo dipartimento, Fabio Ciciliano. La cabina di regia di cui fa parte anche il ministro sta lavorando affinché si possa arrivare ai risultati sperati dalle regioni. E la Sicilia è la regione che sta patendo più di altre l'emergenza siccità, comuni senza acqua, così come agricoltori ed allevatori, rubinetti a secco, animali e colturi a rischio. Abbiamo elaborato un programma di infrastrutture, circa 500 interventi, per un piano che si dovrebbe realizzare in 10 anni. Dalla regione siciliana sono arrivate 52 proposte. Naturalmente dovremmo fare i conti con le risorse finanziarie, si tratta di miliardi e miliardi per tutta Italia. Poi c'è la riqualificazione delle reti urbane, della rete di distribuzione. E infine c'è l'anello più debole, è quello della cultura, l'approccio all'uso dell'acqua per evitare gli sprechi. Dobbiamo cominciare a pensare all'acqua di mare e dobbiamo cominciare a pensare alle acque reflue. Quindi è un processo lungo, nessuno si faccia illusioni. Ma questo governo la strada l'ha già imboccata. Noi abbiamo messo a disposizione come governo che sono un miliardo e duecento milioni del PNRR a favore delle regioni. Il collega Fitto mi dice che soltanto il 30% risulta essere stato finora utilizzato, poco più, forse il 32% di questa somma. Bisogna concludere entro giugno del 2026. Parliamo di agricoltura. Il ministro Francesco Lollobrigida fa sapere che è stata raggiunta l'intesa sul riparto tra le regioni del Fondo di Solidarietà Nazionale per i danni causati dalla Peronospora, portate alcune semplificazioni sulla PAC, la politica agricola comune. È stata raggiunta l'intesa in conferenza Stato-Regioni su due importanti schemi di decreto, uno concernente il riparto tra le regioni sulla disponibilità di Fondo di Solidarietà Nazionale per gli interventi compensativi ai danni causati dalle infezioni di Peronospora e l'altro sul riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nella regione siciliana. Con questi due decreti compiamo importanti passi avanti a favore delle filiere italiane danneggiate dalla Peronospora e veniamo incontro alle imprese siciliane che stanno affrontando il dramma della siccità, è quanto dichiara il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigita. Per quanto riguarda la Peronospora, sono stati stabiliti criteri per il riparto tra le regioni del Fondo di Solidarietà Nazionale di 7 milioni di euro che saranno poi applicati successivamente anche agli ulteriori 40 milioni incrementati con il decreto legge agricoltura, un sostegno finanziario per affrontare le difficoltà e garantire la continuità alle attività delle imprese. Inoltre abbiamo voluto apportare alcune semplificazioni sulla PAC, in particolare sugli ecoschemi, che sarebbero stati particolarmente gravosi per i produttori siciliani colpiti dalla siccità, ha detto Lollobrigida. E intanto Coldiretti fa sapere che a causa del caldo record scatta la vendemmia anticipata in Sicilia. Il caldo africano che sta investendo l'Italia fa scattare con 10-15 giorni di anticipo la vendemmia che sarà ricordata per essere la più precoce di sempre e l'effetto dei cambiamenti climatici in atto che con le alte temperature e la mancanza di pioggia hanno accelerato la maturazione delle uve soprattutto al sud e quanto emerge dalle prime stime della Coldiretti in occasione dell'avvio delle operazioni di raccolta in provincia di Palermo e a Contessa in Tellina. La vendemmia 2024 è probabilmente quella con le maggiori incognite degli ultimi anni, rileva Coldiretti, e non solo per il forte anticipo dell'avvio che spalmerà le operazioni di raccolta nell'arco di quattro mesi, caso praticamente unico in Italia. Un percorso che offre opportunità di lavoro a 1,3 milioni di persone impegnate in vigne e cantine e nella distribuzione commerciale. A pesare soprattutto il meteo che divide l'Italia in due nel meridione assediato dalla siccità Leviti sembrano avere resistito più delle altre colture con il caldo che ha bloccato il rischio della malattia che lo scorso anno ha tagliato 11 milioni di ettolitri in tutta Italia. La qualità delle uve è dunque ottima con un alto livello qualitativo e l'arrivo della pioggia potrebbe assicurare un buon risultato produttivo. Un'attività stromboliana è stata registrata dall'INGV di Catania attraverso immagini del sistema di videosorveglianza al cratere voragine dell'Etna. Le osservazioni degli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sono fortemente limitate a causa della copertura nuvolosa presente sull'area solmitale. Il modello previsionale di dispersione dell'eventuale nube vulcanica indica la direzione sud-est. Un repentino incremento dell'ampiezza media del tremore ha accompagnato questa fenomologia raggiungendo valori alti e successivamente alla fine del fenomeno si è osservata una tendenza al rientro dei parametri sui valori precedenti. Abbiamo decisamente argomento parliamo di sanità e riorganizzazione del personale medico che possa salvare i reparti a rischio chiusura, pediatria e ginecologia all'ospedale di Mazzara del Vallo. Sono due principalmente i reparti a rischio nell'ospedale di Mazzara del Vallo a Belaiello, pediatria e ginecologia che secondo i sindacati soffrono la carenza di medici. A precisarlo in una nota il responsabile trapanese della CISLFP Palermo Trapani Marco Corrao è il segretario generale Will FPL Trapani Giorgio Macaddino. Per quest'ultimo sarebbe necessario autorizzare fin da subito chi ha fatto espressa richiesta di prestare la propria opera nel presidio ospedaliero. Ci appelliamo alla direzione generale dell'ASP di Trapani dice che finora si è contraddistinta per la grande sensibilità a questi temi ad avviare un ragionamento con le organizzazioni sindacali. Sicuramente le interlocuzioni sono ad altissimo livello è chiaro che bisogna tesorizzare abbiamo posto anche una ipotesi di collaborazione dal punto di vista delle soluzioni vedere negli altri centri dove ad esempio non ci sono funzionanti punti nascita per evitare che si chiude anche questo di Mazzara di creare una condizione di collaborazione con degli ordini specifici alle unità dove lavorano presto altri presidi che possono assicurare questo tipo di sicurezza. L'ASP ha detto il direttore generale Ferdinando Croce sta portando avanti un lavoro incessante sul fronte del reclutamento dei medici. Abbiamo avuto sì notizia di alcune scelte squisitamente individuali di alcuni professionisti che hanno intrapreso altre strade e deciso di tentare altre carriere ma questo non incide minimamente sulla resa e sull'attività delle unità operative rispetto alle quali ho già convocato una riunione il 31 di luglio per l'area materno infantile per tutta l'azienda rispetto alla quale appunto adotteremo sicuramente le disposizioni di carattere straordinario per favorire un ordinario e continuo diciamo svolgimento dell'attività assistenziale. E non manca l'appello ai cittadini. I cittadini stiano sereni l'azienda sanitaria provinciale di Trapani è al loro fianco e sta adottando tutte le iniziative organizzative di reclutamento di carattere clinico necessarie per assicurare questo buon andamento della sanità trapanese. Ancora una volta i laboratori di analisi convenzionati in Sicilia devono fare i conti con i budget che finiscono e così i pazienti sono costretti a pagare le prestazioni anche quando dovrebbero essere esenti. Andare a fare delle analisi o una visita in una struttura pubblica è a volte assai difficile viste le liste di attesa o la non micinanza di un nosocomio ed è per questo che affidarsi a un laboratorio analisi privato ma convenzionato diventa più comodo soprattutto se si è più anziani e si ha difficoltà a essere accompagnati. Ma succede e si ripete spesso che ogni mese le strutture finiscono nelle budget che la regione mette a disposizione e così niente prestazioni con il servizio sanitario ma solo a pagamento. L'alternativa aspettare l'inizio del mese successivo impossibile in molti casi perché le analisi non sono un capriccio ma una necessità. Non c'è una copertura finanziaria adeguata al fabbisogno degli pazienti il cittadino purtroppo e anche noi operatori siamo abbandonati da un sistema politico che non ha interesse di coprire questa esigenza. Noi abbiamo concordato l'8 maggio con l'assessorato che appunto ci fosse una copertura maggiore ma invece il decreto ha stabilito che non fosse necessario coprire tutta la produzione del 2024. E tra coloro che ne hanno bisogno ci sono anche portatori di handicap soggetti con la 104 con le esenzioni per patologia. Vorremmo dare un contributo migliore al sistema sanitario e invece ancora una volta assistiamo a una assoluta lontananza delle istituzioni. Noi non vorremmo mai soprattutto in difficoltà che debba sostenere il costo della prestazione eppure ancora nel 2024 accade questo. In Sicilia inoltre il rimborso per i laboratori è molto più basso rispetto ad altre regioni. La Sicilia essendo in piano di rientro non ha inserito l'aggiunta che le altre regioni hanno potuto fare ma addirittura ci troviamo ulteriormente penalizzati perché non siamo mai retribuiti per le prestazioni eseguite ma solamente per una parte delle prestazioni che noi eseguiamo. praticamente noi regaliamo al sistema sanitario regionale milioni di euro. Antonella ha dovuto spendere in più 500 euro perché il suo volo l'anno scorso a causa dell'incendio all'aeroporto è stato cancellato ma dopo 12 mesi ancora nessun rimborso da parte delle compagnie aeree. Dopo un anno dall'incendio che ha colpito l'aeroporto di Catania ci sono ancora passeggeri che attendono il rimborso come succede alla signora Antonella che l'anno scorso avrebbe dovuto prendere un volo per Roma ma prima è stata dirottata su Palermo e poi anche lì il volo è stato cancellato. Mi avevano detto che il volo sarebbe partito da Palermo e ho affittato una macchina per raggiungere l'aeroporto ma arrivata a metà strada collegandomi nel sito di Ryanair mi sono accorta che anche quel volo era stato annullato quindi sono dovuta ritornare indietro lasciare la macchina e provvedere a raggiungere Roma con un treno però ancora non ho nessuna notizia da parte di Ryanair nonostante le varie sollecitazioni. Quanto ti è costato in più tutto ciò? In più all'incirca sui 500 euro perché ovviamente prendendo un treno all'ultimo momento ho dovuto accontentarmi dei prezzi che ho trovato ho trovato un biglietto da villa quindi ho preso l'autobus da qua ho traghettato a piedi e ho raggiunto il treno e in più la macchina che avevo affittato per raggiungere Palermo. A seguire Antonella è consumatorica attraverso il suo presidente Carmelo Cali evidenzia come sia necessario riaprire il fondo messo a disposizione dal Ministero del Turismo per accedere al quale c'erano solo 28 giorni di tempo troppo pochi giorni e troppo pochi soldi solo 15 milioni di euro che non bastano a coprire i danni subiti dai viaggiatori ma anche dalle imprese del turismo. Le chiediamo innanzitutto la riapertura la massima informazione sui tempi e un tempo anche abbastanza congruo perché anche 30 sono pochi. C'è poi la questione dei costi sostenuti per raggiungere altri aeroporti in cui i passeggeri sono stati riprotetti così come è accaduto ad Antonella oltre al fatto che le compagnie devono rimborsare i passeggeri qualora il volo sia stato cancellato. Vi sono degli obblighi comunque che ha la compagnia aerea di assistenza che sono dovuti anche in caso di circostanza eccezionale. E alla SAC società di gestione all'aeroporto di Catania possono essere chiesti danni? Riteniamo che vi sia una responsabilità extra-contrattuale della SAC per quanto riguarda tutti i danni che i passeggeri hanno subito e quindi da questo punto di vista chiederemo e chiediamo che anche la SAC risergisca i danni. La quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberata all'unanimità alla nomina del procuratore aggiunto di Catania Francesco Puleio a procuratore di Ragusa in carico lasciato libero da Fabio Danna nominato procuratore generale di Caltanissetta la delibera dovrà passare al vaglio del plenum del CSM Puleio era candidato a procuratore di Catania il 17 luglio scorso ha ottenuto dal plenum del CSM 12 contro i 13 di Francesco Curcio Francesco Puleio è entrato in magistratura nel 1986 è stato dal dicembre del 1987 giudice del Tribunale di Caltagirone poi luglio del 1989 sostituto procuratore a Catania nel settembre del 2009 ha ricoperto l'incarico di procuratore a Modica e dalla chiusura dell'ufficio giudiziario avvenuta nel settembre del 2013 sostituto procuratore a Ragusa dall'ottobre del 2016 è procuratore aggiunto a Catania ci fermiamo adesso per una brevissima pausa pubblicitaria tra poco bentornati in studio parliamo dei disagi che vivono i residenti di Passo Marinaro e di Randello due frazioni che ricadono nel territorio di Ragusa Passo Marinaro e Randello due zone del comune di Ragusa uno scorcio di rara bellezza paesaggistica e naturalistica ma dove i residenti si definiscono di serie B a pochi chilometri di distanza dalle altre realtà come Marina di Ragusa che invece godono di vivacità e programmazione anche quest'anno come lo scorso raccogliamo le rimostranze dei residenti a stagione estiva già ben avviata a farsi portavoce l'associazione Passo Marinaro che ha sempre puntato sull'installazione di una sbarra all'ingresso dell'area SIC il sito di importanza comunitaria perché le auto vengono parcheggiate persone in spiaggia ma anche il parcheggio pubblico non esiste più malgrado l'associazione ne abbia proposto uno non si riesce a mandarlo avanti non è possibile attivarlo perché dicono che non ha la destinazione d'uso ma si va anche in controsenso con il rischio che qualche bambino o un animale qualunque persona possa finire sotto una macchina non rispettano i limiti di velocità il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Sergio Ferincelli ha girato dei video denuncia nei giorni scorsi e l'associazione spera in un intervento definitivo dell'amministrazione comunale e del sovrintendente De Marco chiederemo intanto in consiglio comunale di andare tutti insieme perché dobbiamo credo arrivare a una manifestazione da parte nostra perché non si può continuare mancano servizi mancano docce mancano bagni per la gente che viene manca un servizio d'ordine che la domenica in particolar modo diventa invivibile perché non si può nemmeno uscire da casa quest'anno ai tanti servizi che mancano si raggiunge un altro che riguarda il ritiro dei rifiuti la ditta busso ha deciso che la dobbiamo portare nella strada ora mi dovete dire una persona anziana anche io personalmente perché mi devo fare tutta questa strada dopo che pago 400 euro al mese per due tre mesi l'anno che uso la casa a Randello c'è una sbarra per impedire l'ingresso non residenti però è sempre alzata per cui chiunque parcheggia sul promontorio è davanti alle abitazioni come documentato dal video del signor Severo di Stabile che ha girato domenica e che da sempre vive in quella zona fino a domenica non potevamo nemmeno uscire di casa la sbarra che dovrebbe funzionare dal 2022 che io pago la luce mentre la sbarra l'ha messa il comune di Ragusa e non lo so non funziona niente perché le persone non vanno al parcheggio perché la sbarra non chiude non si capisce perché da 30 anni 40 anni siamo abbandonati a noi stessi ogni tanto il comune di Ragusa fa finta di interessarsi della vicenda però quando poi deve venire al dunque si tira puntualmente indietro adesso parliamo dei bronzi di Riace perché arriva dalla Sicilia una nuova importante scoperta una nuova scoperta universitaria attesterebbe che i bronzi di Riace siano siracusani gli studi storici accademici e le indagini geochimiche rafforzerebbero l'ipotesi che le due statue siano state trafugate dai romani nel terzo secolo avanti Cristo gli studi sono stati condotti da Anselmo Madeddu esperto di storia e bronzistica greca e da Rosolino Cirrincione direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali dell'Università di Catania che insieme ad un'equip dell'Università di Catania e di Ferrara hanno confrontato le caratteristiche geologiche delle terre e delle saldature dei bronzi di Riace pubblicate dall'Istituto Centrale del Restauro con quelle di diversi campioni prelevati in prossimità della foce del fiume Anapo a sud di Siracusa riscontrando una sorprendente corrispondenza dei parametri geochimici come se avessimo trovato una sorta di DNA delle terre e di DNA delle terre dei bronzi e questo DNA è sostanzialmente identico questo andrebbe a sopportare in maniera forte queste ipotesi siciliane e siracusane in modo particolare che da anni si sta sostenendo l'altra grande novità è che i precedenti studi come ad esempio quello della presunta origine argiva erano stati condotti sulla base di confronti con generiche carte geologiche e con approssimazioni non superiori al 70% mentre il nostro dicono Madeido e Cirincione è stato per la prima volta condotto direttamente su campioni di terra e a diversi livelli stratigrafici procedura dunque scientificamente molto più attendibile abbiamo analizzato elementi maggiori ed elementi in traccia cioè dire elementi presenti in percentuali molto piccole ma importanti perché sono elementi ritenuti immobili cioè non modificabili da processi di alterazione e quindi questa similitudine e questo confronto è stato importante e ha avvalorato l'ipotesi storica che i bronzi siano stati non realizzati ma installati a Siracusa i risultati definitivi di questo straordinario studio saranno pubblicati a breve su qualificate riviste scientifiche per essere messi a disposizione di esperti e studiosi del settore e adesso vi raccontiamo la storia di un giovane para triatleta Alessandro Laterra 33 anni di Santa Croce e Camerina che ha lanciato una raccolta fondi su GoFoundMe per l'acquisto di una handbike la bici per praticare il triathlon lo ha incontrato Viviana Sanmito lui è Alessandro Laterra ha 33 anni ed è di Santa Croce e Camerina detiene il titolo di campione italiano di powerlifting categoria 59 kg ed è un paratriatleta la sua seconda vita inizio ora sulla sedia a rotelle con tanti progetti personali sportivi Alessandro non vuole raccontare tutto della sua vita precedente a telecamere accese perché scriveva un libro ma ciò che è certo è che è un ragazzo che aveva tutto ma ha intropreso una strada deviata che lo ha portato ad un incidente a seguito del quale è rimasto vivo per miracolo era il 10 aprile 2014 e non era ancora il suo momento è importante capire come oggi si può continuare comunque a vivere forse anche più di prima allora io penso che sia giusto dire oggi che vivere da lucido è la cosa più bella del mondo cioè fare delle azioni con consapevolezza è la cosa più più bella che si possa fare io ho un appello che posso fare a tutti questi giovani di oggi che vivono con molta leggerezza fanno cose abbastanza pericolose che potrebbero portarli insomma a fare degli errori abbastanza gravi come quello che ho fatto io hai deciso chiaramente quindi di fare nuoto corsa e bici nelle tue condizioni cosa vuol dire fare questo sport? Allora innanzitutto parto nel dire che è successo tutto per caso perché ho accompagnato un mio amico oggi compagno di squadra della ASD Triathlon Motigenza e il presidente Carlo Blandino me l'ha buttata proprio così e dice Alessandro ma perché non non entri a far parte della nostra squadra e mi dicevano ma sei pazzo ma è difficile dove trovi le forze economiche dove trovi la forza fisica per allenarti e da lì ho capito ok allora questo è il mio sport Alessandro ha lanciato una raccolta fondi su GoFamme dal titolo non solo vincere nella vita ma anche nello sport per permettergli di acquistare mezzi per poter coronare il suo sogno di paratriatleta il suo primo sogno è una handbike che sarebbe la sostituzione della bicicletta per un normo dotato la carrozzina olimpica in più ci vorranno delle attrezzature particolari per degli allenamenti che dovrò fare in inverno sulla pagina ASD Triathlon Motigenza abbiamo ogni giorno giornalmente proprio mettiamo il link sicuramente la raccolta fondi ha un senso molto più profondo cioè che anche con la disabilità si possono fare grandi cose grandi sport possono raggiungere grandi obiettivi non esistono limiti strumento in più per far capire a persone con disabilità che la vita non è finita che c'è sempre un'altra chance per andare avanti e continuare a dare il meglio di sé chiudiamo qui questa edizione di MTG è tutto grazie per averci seguito buon proseguimento su video mediterraneo grazie a tutti grazie a tutti